Entro le prossime settimane in Abruzzo si partirà con le terze dosi, fermo restando il raggiungimento di un'alta percentuale di vaccinati. Lo ha detto questa mattina a Pescara l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, parlando della campagna vaccinale a margine della presentazione della nuova PEC-TAC che è già entrata in funzione all'ospedale Santo Spirito. Guardi, ci siamo già quasi, devo dire che quel percentuale dell'80% lo stiamo raggiungendo, negli ultimi tempi c'è anche un aumento di richieste di vaccinazione da parte di quel target della popolazione che era rimasto indietro, proprio con l'apertura della scuola c'è stata una maggiore attenzione alla vaccinazione. Sessore, per quanto riguarda la terza dose, cosa accadrà da qui a qualche settimana in Abruzzo? Proprio domani ho organizzato un incontro in assessorato con le quattro direzioni per organizzare l'attività su tutto il nostro territorio, la terza dose sarà somministrata alle persone fragili e ai sanitari, per cui adesso andremo a verificare quali saranno gli hub, quali saranno le strutture che continueranno a vaccinare nella nostra regione. Diamo un esempio, stimoliamo a chi vuole vaccinarsi, rimane la vaccinazione libera, questo ci tengo a precisarlo, però diamo anche la possibilità di non mettersi in liste di attese, di non prenotarsi, quindi la possibilità di poterci accedere in maniera tempestiva.